Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi della seconda puntata della seconda stagione di Westworld ragazzi intitolata Reunion, una puntata molto interessante, devo essere onesto, portata avanti a ritmi un po' blandi però insomma la seconda parte davvero ha suscitato il mio interesse e non me l'aspettavo, non me l'aspettavo così presto ecco all'inizio della stagione. Allora, che cosa è successo? Innanzitutto questa puntata si è proprio scordata quasi del tutto della storyline di Maeve insomma della storyline di Maeve, Hector e Lee Sizemore, si sono visti soltanto diciamo in una scena di 2-3 minuti si stanno dirigendo ovviamente dalla figlia di Maeve e non ci vengono date quindi informazioni aggiuntive ecco su questa storia e su questa linea narrativa la puntata si concentra soprattutto sulla linea narrativa di Dolores e Teddy ovviamente che stanno continuando a portare avanti questa rivoluzione che cosa è successo? Stanno cercando di mettere insieme un esercito, possiamo chiamarlo così no? perché sono venuti a sapere che diciamo che i soldati, i soldati che affronteranno la rivoluzione diciamo che fronteggeranno la ribellione, i soldati umani ovviamente, sono dai 600 agli 800 e gli androidi non hanno un esercito così vasto ecco quindi Dolores e Teddy stanno cercando appunto di metterlo insieme in che modo? Dolores sta cercando di mettere insieme questo esercito fingendosi Dio quindi uccidendo tutti e poi rianimandoli, rianimandoli ovviamente con la tecnologia degli umani e questo è molto interessante ragazzi, come vedete si torce tutto contro quindi sì, Dolores sta facendo Dio, sta facendo Dio con tutti quanti sta cercando di mettere insieme questo esercito di androidi per appunto fronteggiare l'esercito degli umani e tutti insieme si stanno dirigendo verso, chiamiamola questa meta chiamiamola questa meta chiamata Glory, questo posto chiamato Glory che in realtà non è un posto, Dolores dice che è un'arma che si è vista a un certo punto nella puntata ed è lo stesso posto dove si sta dirigendo anche William nei panni di Ed Harris oppure Ed Harris nei panni di William insomma il William anziano, chiamiamolo William anziano si sta dirigendo verso questo stesso posto che vide anni prima, molti anni prima e anche lui sta cercando di mettere insieme un esercito ma chi è che sta impedendo diciamo a William di mettere insieme questo esercito? Robert Ford Robert Ford che ha programmato gli androidi ha programmato gli androidi creando praticamente creando la linea narrativa di William è quello che ha fatto Robert Ford prima di uccidersi, tra virgolette ha creato, ha creato attraverso la programmazione di alcuni androidi la storyline di William dando appunto allo stesso William uno scopo dandogli un obiettivo, ecco cercando di farlo arrivare a questa presunta meta e quindi gli androidi sono programmati per uccidersi pur di non, diciamo, legarsi al destino di William tutti a parte Lawrence a parte Lawrence che già di suo comunque è legato già dalla prima stagione abbiamo visto al destino di William Lawrence che è un personaggio che nella prima stagione è stato molto diciamo molto sviluppato abbastanza sviluppato, ecco contro le mie aspettative e vediamo appunto come sarà come sarà gestito come funzionerà in questa stagione se da una parte abbiamo Dolores e William che si dirigono verso, apparentemente si dirigono verso la stessa meta ci sono anche i flashback del passato sia di Dolores che di William da giovane e che cosa ci viene rappresentato, ecco ci viene praticamente mostrato ci viene detto indirettamente come la Delos ha acquistato diciamo ha preso possesso di Westward ha preso possesso delle azioni ecco e ci viene mostrato un William completamente diverso da quello che eravamo abitati a conoscere nella prima stagione un William più deciso un William con ideali diversi un William che ha scoperto se stesso ecco soprattutto significativa la conversazione che lo stesso William da giovane ha con Dolores ovviamente quello che sta succedendo rispetto a quello che è successo nella prima stagione avviene dopo avviene dopo quindi insomma dopo che dopo che William si mette contro contro suo contro suo cognato per esempio e quindi significativa la conversazione tra William e Dolores che si lega parzialmente alla conversazione tra Arnold e Dolores che ci viene mostrata a inizio puntata Arnold ovviamente è la forma umana di Bernard quindi prima della sua morte e quindi scopriamo che Dolores ha già visto diciamo il mondo il mondo circostante ha già visto il mondo circostante nei suoi ricordi ecco lo ha già visto in passato e e si ricorda tutto si ricorda tutto quindi si ricorda come come diciamo come arrivare come raggiungere quel mondo si ricorda praticamente tutto e questo sicuramente contribuirà alla ribellione degli androidi comandati appunto da lei stessa io sinceramente la cosa interessante è che nella prima stagione William da giovane William giovane era stato introdotto nella seconda puntata e anche in questa stagione anche in questa stagione ci viene detto nella seconda soltanto nella seconda puntata che appunto la storyline di William giovane sta proseguendo sta continuando e non so non so sinceramente come quella storyline si possa legare a quello che insomma quello che è successo quello che sta succedendo nel futuro o nel presente e insomma tutto da scoprire ragazzi ci si possono fare miliardi di pippe mentali su 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 Westward 2 ecco ci sono ancora otto puntate può succedere davvero di tutto nella prima stagione è scoppiato il caos verso la sesta settima puntata ecco quindi mi aspetto altre puntate più che altro di di presentazione altre puntate di introduzione nelle nelle prossime settimane prima appunto di far scoppiare il caos e e vedremo anche come come verrà sviluppata la storyline di di Bernard non di Arnold di Bernard che che non ci viene neanche mostrata in questa puntata ma ragazzi ovviamente ditemi che cosa ne pensate voi di Reunion la seconda puntata della seconda stagione di questa Westward la serie HBO scritta e diretta e prodotta da Jonathan Nolan ragazzi mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao